ciao ragazze e ciao ragazzi benvenuti o bentornati sul mio canale oggi video spacchettamento avon appunto di campagna 5 il mese di maggio torno dopo un anno di assenza con un bel video spacchettamento appunto avon io sono consulente avon da tantissimo tempo e questi sono prettamente prodotti che ho acquistato per me perché ho detto ricominciamo a lavorare in avon e appunto volevo prendere alcune cose che a parte mi servivano e vi faccio vedere appunto cosa ho acquistato non è tantissima cosa però volevo farvela vedere allora partiamo con la fattura poi mi hanno mandato il catalogo casa che è valido da campagna 4 a campagna 6 e poi il catalogo di campagna 6 fatemi sapere se vi può interessare e lo sfogliamo insieme come abbiamo sempre fatto allora come vedete i prodotti sono pochi perché sinceramente ho tanti tanti prodotti da terminare però ho visto queste offerte ho detto non le posso lasciare perdere allora ho acquistato un bubble bath da 500 ml nella fragranza pink pink sand poi ho acquistato il famosissimo rare pearls questo lo usavo da una vita e mezza quindi l'ho ricomprato e poi ho acquistato il set per sieve l'offerta era ottima adesso sinceramente non mi ricordo quanto costasse il set però l'ho voluto prendere e che comprende appunto il profumo per sieve da 50 ml il deodorante roll on e la crema corpo profumazione che io adoro sono due profumi appunto il per sieve e a rale per sono fragranze penso le più buone di avon niente ragazzi il video è finito infatti volevo farvelo vedere più che altro le cose che ho acquistato mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e continuerò adesso a caricare video su youtube ho anche una pagina facebook e un canale e una pagina instagram appunto che vi lascio descritta giù nell'info box un bacio e alla prossima ciao ciao